Ciao ragazzi, benvenuti su SoloHorror, io sono Andrea e il motivo per cui mi state vedendo è molto semplice. La storia che voglio raccontarvi oggi si basa quasi interamente su una sola immagine e dato che non mi sembra il caso mostrarvi la stessa foto per l'intera durata del video, eccomi qui. Ma iniziamo subito a parlare di creepyface.jpg. Sono abbastanza sicuro che qualcuno di voi ha già visto questa foto dato che appunto era un meme, ma ciò che sicuramente molti non conoscono è l'assurda storia che l'ha fatto diventare una creepypasta e poi una storia dell'orrore di youtube. E ragazzi se siete pronti mettetevi comodi perché stiamo per scoprire tutta la verità su creepyface.jpg. Non è molto chiaro come e quando questa foto sia stata creata ma la prima volta che è stata postata online è stato su 4chan nell'ormai lontano 2010. La foto era nominata creepyface.jpg e venne postata da un utente per descrivere quanto fosse inquietato e disturbato da quella singola immagine. Questa persona ha scritto in maniera anonima e pubblicato il suo messaggio il 6 novembre del 2010. In quest'ultimo si può leggere. Ecco la bomba che sto per sganciare. questa foto. Questa foto qui. Non riesco a guardarla per più di qualche secondo. Mi perseguita. Anche adesso che sto vedendo il file tra tanti altri. Non posso vederla zoomata al 100%. Non so perché ma è strano. La foto è strana. Quello che mostra è semplicemente questo. Non lo so. Mi spaventa ad un livello primordiale. Non riesco a spiegarlo. Molto, molto in profondità. La mia parte animale mi dice che vuole farmi del male o che sta per attaccarmi. La fonte ufficiale vuole che si tratti di un orribile sketch della polizia per ricreare un sospetto criminale dalle testimonianze. Ma è comunque terrificante per me. Per motivi che non so spiegare. Spero che sentiate lo stesso orrore che sento io. Buona fortuna. Ora lascio questo thread. Come vedete già la nascita di questa figura non è stata delle più urose. Anzi sin da subito è stata collegata all'orrore e all'inquietudine. La foto raffigura un uomo in felpa. Con dei grandi occhi e un sorriso innaturale stampato in volto. In realtà non sembra somigliare ad una vera e propria persona. Ma più ad una sorta di caricatura. E più tempo la si guarda più diventa facile capire ciò che intendeva l'utente anonimo di 4chan. Inizialmente però poche persone sembravano interessarsi a questo caso. Fino a quando nel 2011 in un thread di 4chan venne chiesto agli utenti quale fosse una cosa inquietante che avevano visto in tv nel bel mezzo della notte. Alla domanda un utente rispose. Intendi nel bel mezzo della notte. Quando improvvisamente ti svegli e realizzi che quella lieve luce sul tuo volto veniva dalla tv. Su di essa questa statica e silenziosa immagine. Sapete secondo me potrebbero fare un fantastico film horror con roba come questa. Gli horror tecnologici andrebbero alla grande nella nostra epoca. Ebbene dopo anche questo commento l'immagine non ha iniziato a circolare come vi aspettereste. Anzi gli utenti hanno iniziato effettivamente ad usarla nei sub forum di 4chan. Però erano quelli legati alla politica. Che ok molto spesso è horror ma in questo caso diciamo che è diventato una sorta di meme in quell'ambito. Veniva usato per spaventare le persone ma non nel senso che immaginiamo. Quando per esempio iniziavano discussioni accese riguardo argomenti politici semplicemente alcune persone rispondevano con questa immagine. In questo modo non solo spaventavano gli altri ma facevano in modo che le discussioni accese finissero. Uno strano modo di usare creepy face ma almeno funzionava. Negli anni seguenti poi il suo folle viaggio è continuato finendo per diventare una sorta di creepypasta nel 2015. Più di preciso nel sito russo 2chan che non avevo mai sentito prima d'ora. In questa storia si supponeva che la figura fosse una persona facente parte di qualche organizzazione terroristica e venne detto che la foto derivasse da un video statico con una musica disturbante in sottofondo. Ecco da quel momento la popolarità di creepy face crebbe a dismisura, diventando un vero e proprio meme sempre nel 2015. Con il tempo, come succede spesso, venne modificato, photoshopato per creare meme sempre nuovi e aggiornati. La cosa strana è che venne usato in particolare sempre nell'ambito politico. Dal 2015 in poi quindi si può dire che nessuno fosse davvero spaventato da questa strana immagine. Solo alcuni gruppi facebook iniziarono a mostrarla dicendo quanto fosse inquietante. Ma nulla di più. Questo fino al 2021 quando il creator Alex Kister iniziò a lavorare alla realizzazione dell'ormai famosissimo Mandela Catalog. E qui le cose iniziano a farsi interessanti. Il Mandela Catalog è appunto una serie di youtube creata da Alex e consiste in una serie di video volti a informare la popolazione della contea di Mandela riguardo alcuni esseri chiamati alternate o alternativi. Allora Mandela County era una città proposta negli anni 80 nel Massachusetts che non ha mai visto la luce. Il Mandela Catalog quindi non è altro che una serie fittizia di trasmissioni televisive della presunta città. In queste trasmissioni viene spiegato ai cittadini che esistono vari tipi di alternate e prosegue spiegando le loro caratteristiche, come riconoscerli e cosa fare in caso di avvistamento o contatto con loro. Tutta la serie è decisamente inquietante e probabilmente molte persone hanno anche pensato che fosse vera. Diciamo che è fatta decisamente bene ed è proprio in quest'ultima che possiamo trovare il nostro creepy face. Alex ha dato nuova vita a questo meme chiamandolo The Intruder, l'intruso. Appare per la prima volta in questo video in cui finalmente gli viene data una storia, più precisamente la storia di Mark, quattro anni, il cui titolo è La Notte Spaventosa. Papà non ha controllato sotto il mio letto la notte scorsa, così sono andato nella stanza di mamma. Avevo paura, c'era un uomo spaventoso che bussava alla porta e la parte più spaventosa è stata fare le scale vicino alla stanza buia. Ma ero quasi arrivato alla stanza di mamma, poi ho visto l'uomo in un angolo. Lui. E poi mi sono addormentato. Fine. Sebbene il disegno possa sembrare totalmente sconnesso da creepy face, subito dopo si può vedere la foto della stanza buia vicino alle scale, seguita da... un intruso. E da quel momento l'intruder inizia ad essere un personaggio abbastanza presente durante tutta la serie, ma non sempre si utilizza la stessa foto per parlare di lui. In un video di agosto 2021 chiamato Allerte Intruso, viene mostrata la foto di uno strano uomo in bianco e nero. Ad un certo punto dice qualcosa di inquietante. Che sia proprio lui lo strano individuo che abbiamo sempre chiamato Creepy Face. Più tardi nel video, quando un presunto bambino scompare, si può vedere l'intruso nello schermo di una tv che sorride. Ecco ragazzi, da questo momento la serie è diventata virale, arrivando anche in Italia e tantissime persone sono letteralmente impazzite per l'intruso. E ovviamente ha iniziato a fare il giro del web. Ancora una volta sotto forma di meme. Anche se tutti adesso conoscono la sua inquietante storia. Lo stesso Alex Kister ha affermato di aver capito che vedendo l'immagine il 50% delle persone la troverà estremamente inquietante. Mentre il restante 50 penserà che si tratti semplicemente di una strana figura divertente. E sembra essere proprio così. Alcuni lo vedono come un meme, altri lo temono e ne sono terrorizzati. Ma la storia inquietante di questa immagine ancora non è finita. Alex non ha scelto a caso Creepy Face, bensì ne è venuto a conoscenza grazie ad una creepypasta poco nota del 2016. Non sto a raccontarvela perché c'entra poco con l'argomento di oggi, ma fondamentalmente parla di una macabra teoria di cospirazione, secondo cui un codice audio potrebbe controllare la mente delle persone. Potrebbe anche renderla inattiva, come in una sorta di trance. Cosa c'entra Creepy Face in tutto questo? Quasi nulla. Infatti è stato semplicemente usato per rappresentare la creepypasta, inserendolo negli script e nei video a riguardo. Ecco un esempio. Insomma, una semplice immagine che gira nel web da ormai 12 anni e che ha avuto una storia decisamente contorta. Sinceramente io faccio parte di quelle persone che la trovano un'immagine inquietante, seppur senza contesto. Le storie di Alex però hanno reso l'intruder ancora più spaventoso, dandogli un ruolo ben preciso. Il ruolo di una figura pericolosa, della quale stare attenti perché potrebbe fare del male. Alex ha anche confermato che l'intruder sarà una parte fondamentale del secondo volume della sua serie e sinceramente non vedo l'ora di vederlo in azione. Negli anni la sua immagine ha assunto un significato sempre più inquietante e la trovo una cosa davvero affascinante. Ebbene, questa era la sua storia. Di sicuro tanto altro accadrà e gli verrà attribuito nei prossimi anni e credo che vi terrò aggiornati. Fatemi sapere se lo trovate inquietante o semplicemente divertente. Detto questo, grazie a tutti per aver visto il video. Come al solito, spero che vi sia piaciuto e che sia stato interessante. Anche oggi quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.